fratelli bianconeri e non buona serata a tutti voi dunque analisi e pagellazze della partita juventus sampdoria vinta dalla squadra di mister fantomas per 4 a 2 partite devo dire la juventus a giocare fa schifo lo stesso che vinca 1 a 0 o che vinca 4 a 2 però preferisco vincere 4 a 2 perché io come sempre sono ancorato al vecchio discorso che io preferisco fare un gol o due in più degli altri piuttosto che il solito risicato 1 a 0 peraltro risultato sempre molto rischioso a me di prendere due gol a partita non me ne frega niente se ne faccio 4 ok se poi a questo si accumunasse qualche errore in meno del nostro mister e qualche errore in meno anche degli stessi giocatori la cosa non mi dispiacerebbe ma del resto demon non è che puoi pretendere tutto sempre no dai stasera hai vinto 4 a 2 della serie non lamentiamoci e invece no e invece no c'è sempre da lamentarsi perché le lamentele le critiche portano verso i miglioramenti che piaccia o non piaccia ma è così e quindi breve analisi la juventus vince 4 a 2 una partita che è stata tremendamente in sofferenza fino alla fine del primo tempo quando la sampdoria in due minuti incredibilmente ci fa due renghe ma non perché sono meritate mica sono state meritate semplicemente qui bisogna aprire una piccola finestrella delle mie per cercare di capire se quando la squadra retrocede il baricentro del centrocampo devo capire se è la squadra che lo fa o se è un ditta dello stratega che abbiamo in panchina perché questo continua a non capirlo perché qualcuno stasera nella live reaction peraltro vi ringrazio di cuore perché siete stati veramente tanti stasera e quindi questo è uno degli arcani dei misteri di questa cosa perché se la squadra allora ho ragione io cioè è una squadra anarchica fa quello che gli pare l'allenatore che c'è o che non c'è vale meno di zero oppure c'è la seconda ipotesi la colpa è dell'allenatore perché lui stasera è un errore che fa continuamente anche stasera la partita la vinci 2 a 0 c'è il Friburgo contro cui dobbiamo andare a giocare giovedì quindi tende a risparmiare la squadra non sforzatevi troppo arretriamo un po' conserviamo il risultato quindi è una di queste due cose spero che un giorno il grande stratega che abbiamo in panchina mi sappia svelare questo arcano detto ciò la partita avrei voluto che fosse scivolata via un po' senza tutti questi patemi d'animo un po' più in tranquillità invece no la Juventus come sempre bravissima a complicarsi la vita da sola e permette alla Sampdoria da 2 a 0 pareggiare 2 a 2 mi erano venuti nella testa oscuri presagi ma per fortuna poi ci pensa il grande capufficio che stasera annovera una doppietta e per ultimo Soule il quale un gol forse lo meritava anche ripeto io personalmente salvo il risultato come faccio sempre perché per il resto credo che da salvare ci sia poco a livello di gioco intendo e adesso come sempre pagellaste di rito te ciao e set dunque per in sei partita non difficile un paio di parate su tiri da lontano che non hanno complicato molto la vita subisce due gol sui quali può fare praticamente nulla perché non se li aspettava nessuno dei due quindi mette nel carniere due gol ma responsabilità poca sei danilo una partita a mio parere anche troppo da operaio e non mi è piaciuto in un gesto quando è andato a riprendere il giocatore della Sampdoria prendendolo quasi per il collottolo qui no no la collottolo è qui per il bavero quasi della maglia a muso duro ecco a me questi sono comportamenti che non mi piacciono soprattutto da un capitano perché quando non c'è bonucci è lui il capitano per questo motivo stasera gli do diciamo così mezzo voto in meno non che avrebbe meritato il 6 e mezzo ma forse avrebbe meritato il 5 e mezzo per questo gesto ma voglio essere generoso sei bonucci tre giocatore finito giocatore che non pretenda un altro anno alla juventus perché non se lo sta meritando è un giocatore palesemente finito lo si vede chiaramente un giocatore che non può dirigere come ho sempre detto anche negli anni d'oro suoi non può dirigere una difesa perché non è all'altezza per farlo ma soprattutto un giocatore che non è in forma non fa nulla di buono stasera praticamente sbaglia tutto e mi azzardo a dire quasi che tutti e due i gol siano quasi tutte e due opera sua uno dei due con la complicità di bremer ma soprattutto lui ci ha messo molto del suo 3 bremer 6 se non si fosse macchiato sull'errore del primo gol a mio parere forse avrebbe potuto prendere anche 6 e mezzo bello il gol sullo stacco di testa ci prova ancora in due occasioni per il resto sbaglia poco però quell'errore secondo me va un po' a macchiare la sua partita 6 deciglio è un giocatore che non fa mai nulla di più rispetto al solito compitino ma non è che non la non lo fa per ordini provenienti dall'alto non lo fa perché non è nelle sue capacità deciglio è questo nel bene e nel male l'arcano motivo del perché sta ancora nella nella juventus lo devo ancora capire forse un giorno mister fantomas me lo spiegherà 5 e mezzo fagioli 7 a mio parere ha fatto una bellissima partita c'è sempre stato ha recuperato palloni ha provato a rilanciare l'azione secondo me una delle migliori prestazioni la sampdoria è una squadra che ha permesso alla juventus di giocare che purtroppo è ultima in classifica e secondo me merita di gran lunga questo purtroppo per loro risultato non quello di stasera ma risultato di classifica intendo fagioli con squadre meno importanti come lo è appunto la sampdoria in questo momento sicuramente può fare la differenza a mio parere stasera ha fatto una bellissima prestazione quindi 7 meritato per quello che riguarda la sampdoria gli auguro di tornare presto in serie a perché la vedo molto ma molto molto difficile una permanenza in serie a barrenichea o barrenecea come si chiama non lo so 6 fa la sua partita è la seconda partita che viene convocato da fantomas titolare secondo me non ha sfigurato devo capire se è più un centrocampista di interdizione o di costruzione gioco questo ancora non l'ho capito bene nel dettaglio per un giocatore che può annoverare un fisico molto importante potrebbe diventare veramente un giocatore molto molto utile in questa juventus 6 rabbio personalmente per me il migliore in campo per me non ha sbagliato nulla fa anche doppietta ha chiuso tutti gli spazi ha creato gioco se questo rabbio fosse stato anche quello dei primi due anni personalmente il rinnovo sarebbe scattato in automatico a mio parere ha il difetto che qualche volta è ancora troppo altalenante partite come questa ne fanno solo parlare bene 8 Kostic anche lui da tante partite in pompa magna è un crossatore eccellente sforna assista più non posso giocatore che a mio parere è stato uno dei migliori acquisti se non dico insieme a Di Maria il miglior acquisto che abbiamo fatto quest'anno giocatore che si è rivelato veramente di stare molto 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 bene molto bene in questa juventus 7 andiamo avanti con Miretti 6 e mezzo l'ho visto un po' meglio del solito un po' più pronto ha cercato in un'occasione anche il gol non riuscendoci ha distrutto molto e creato molto per cui direi che siamo diciamo un passo avanti non poco Vlaovic che ve lo dico a fare zatterone il zatterone anche stasera purtroppo ma stasera a differenza delle altre volte il suo zatterone va condiviso con la dea sbendata, la dea sbendata che stasera si traveste da sfiga e lo colpisce in pieno viso a muso duro ma lo colpisce veramente il non gol degli ultimi tre secondi che permette poi di andare in gola sull'è è qualcosa di eclatante della serie quando la palla non deve entrare non entra puoi fare come vuoi sbaglia un rigore peraltro tirato benissimo palla da una parte portiere dall'altro l'angola due dita di troppo però io credo che questo tipo di Vlaovic possa essere considerato in ripresa ripeto stasera però lui e la dea sbendata chiama si sfiga tutti e due su il zatterone quadrado sei partita che ha fatto dove l'ha visto un po' in ripresa nelle ultime due partite l'ho visto un po' meglio non è ancora il quadrado che mi piacerebbe vedere a me però un pochino meglio ciò non toglie ripeto ultima stagione e poi passiamo ai saluti sei Locatelli sei giocatore che continua a non piacermi gli do la sufficienza per diciamo così perché voglio essere generoso però a riguardo alla porta non la vede mai mai non vede mai la porta proprio non la vede proprio e questa è l'ulteriore dimostrazione di quando vi dicevo che la nazionale italiana ha avuto una fortuna così nel vincere l'europeo questo ha fatto due gol da fuori all'europeo non sa più neanche come si scrivono questi gol non solo farli per cui personalmente per quanto mi riguarda onestamente parlando fino a oggi Locatelli dentro una fionda ma non per tirarla così per tirarla all'indietro cioè lo tiro all'indietro dove va va perché non ci interessa neanche vedere la traiettoria è un giocatore che per il momento continua a non piacermi sulle sette sette per il gol ma sette anche perché in partita è entrato bene io l'ho visto bene al ragazzo personalmente secondo me è uno dei giovani che va tenuto maggiormente sotto osservazione ha personalità e questo non guasta anche se devo dire che in un'occasione mi è piaciuto poco perché poteva essere un po' meno egoista però per il resto direi che se l'è cavata egregiamente bene Rugani non giudicato non gli ho visto praticamente toccare palla stessa cosa di Gatti che ha toccato credo un pallone o due non oltre tutte e due non giudicati apre una finestrella soltanto per dire che Gatti l'ho visto stasera dopo molto tempo che non lo vedevo più pensavo fosse morto pensavo pensavo fosse morto invece e invece eccolo ancora qua così redivivo dal nulla Allegri 6 6 perché hai vinto e quindi la sufficienza la prende però ripeto io abborro questo tipo di modo di giocare questo questi metodi questi moduli soprattutto questo 3 5 1 1 che a me assolutamente è un modulo che non dice nulla ma stasera oltre a a fantomas voglio dare un altro voto a a chi non ve l'aspettate questa stasera voglio dare un voto a El Rotamero El Rotamero Pogba El Rotamero perché voglio dare un voto a Pogba perché io devo capire se questo giocatore o lo fa apposta oppure veramente è un rottame finito da mandare sapete quelli che passano a raccogliere il ferro ferraioli diamogli a un ferraiolo magari lo chiude dentro casa sua prova a fargli le gambe nuove con il ferro non lo so cosa deve fare però io credo che siamo veramente arrivati al punto da definire questo giocatore ormai un ex giocatore e l'ho voluto soprannominare con un nome simpatico El Rotamero che sarebbe poi il rottame no io lo dico in modo spagnolo brasiliano ma non ho le più palli di idea se rottame in brasiliano si dica così non mi interessa neanche saperlo ma da oggi in poi non lo chiamo non lo chiamerò più Paul Pogba o Paul Labillo Pogba lo chiamerò El Rotamero perché quando ci vuole ci vuole buona serata a tutti